Musica Prova Tenderini ferma tutto Alla successione 3 contro 1 per il Fusso Villorba Palla per Asai E prova a buttare mezzo per Tenderini che sbaglia di ginocchio Prova ad alzare il Fusso Villorba Adesso Renan supera Asai Renan Rupa palla Tenderini Prova a buttare Renan Tiro traversa di Tenderini Fisca l'arbitro Madu la battuta Madu Fuori Palla per Baldassar 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 1-0 Villorba Ottima l'imbucata di Belfassi per Baldassar Fin uno contro uno con il portiere La intacca al suo lato destro 1-0 Villorba È il primo gol di stagione Gira palla per Renan Renan per Feverini Marcato da Baldassar che prova l'imbucata Feverini per Morag Prova a buttare Asai Morag prova l'imbucata Ferma tutto Decolle Asai perde palla Decolle Prova a buttare Renan Decolle da solo Prova a buttare Decolle Renan va la battuta della posizione Palla per Feverini che prova il tiro Gol del Milano Ottimo lo schema Del Milano Che gira palla per Feverini Che dà la destra Tira di Mancino Asai alla battuta Palla per Tenderini Ottima parata Destra Prova a puntare Feverini Palla per Asai Palla per Asai Asai Prova a superare l'avversario Tiro Palo Di Asai Ottimo Zacc prova a fermarlo Renan Palla per Madu 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 Intercetta al passaggio E va Uno contro uno Con il portiere 2 a 1 Villorba Ottimo Nel senso della posizione Di Madu Intercetta al pallone E poi Uno contro uno Con il portiere Non sbaglia Di nuovo Tenderini Che ha recuperato palla Parata per Benaba Benaba Prova il tiro Ottimo L'ha parata Del portiere del Milano Adesso Feverini Ferma tutto Madu Ottimo Sando Beverini Luca Palla per Tenderini Asai In buco per Benaba Che prova il controllo Redato Benaba Ottima l'azione Di Benaba Berini Berini spara la porta Ferma tutto Asai Balla per Baldassare Che prova a puntare Renan Balla sa Prova alla punta Tiro di Benaba Benaba 3 a 1 Villorba Ottimo Il tiro di prima Di Benaba La palla Che passa sotto le gambe Il portiere volontieri 3 a 1 Villorba Tutti a Villorba In questo primo tempo Santagatti Alla battuta Della rimessa Da sinistra Balla per Renan Feverini Prova a puntare Decolle Renta sul mancino Ferma tutto Decolle Rervesciante di Rotani Ottimo All'apparante di Benier Prova l'imbucata Ferma tutto Venti Balla per Volontieri Ferma tutto Beffassi Beffassi Prova a superare Rotani Mette l'ordine Santagatti Ballassar Ballassar Prova a superare Il portiere Madu Madu Peratai Tenderini Prova a tiro Tenderini Che gol ha fatto Il capitano Debuto a Villorba Ottimo Il giro di prima Era fuori aria Per Tenderini Che insacca la palla Alle spalle Di Volontieri 4 a 1 Per Tenderini Tenderini Prova a tiro Per potuto Volontieri Sparsa la palla In investa laterale Adi Beverini sulla destra Santagatti Per Morad Prova Autogol Di Asai Sul cross Al centro Milano Sta continuando Ad effettuare i cambi Deve non dare i punti di decremento A Tostia di Lorba Adesso palla Per Volontieri Che in buca Per Morad Morad Palla su secondo palo Per Rotani Gol di Rotani Questo è fatto male Veniera Beverini Morad Prova A puntare Prova a tiro Ferma tutto Guidolin Ottima la parata Di Guidolin Due volte Milano è bravo Ad aspettare il momento giusto Adesso Peverini Renan Morad Un bucato per Peverini Che prova a tiro Guidolin Parata Ferma tutto Madu Peverini Morad Peverini Palla per Rotani Prova a tiro Adesso Asai Ha un'ottima occasione La palla va fuori La porta era libera Asai Palla per Peverini Madu Palla per Pelfassi Madu Madu Prova a tiro Ottima la parata di Volontieri Peverini sulla destra Peverini sulla destra Rotani Raseggia con Rotani Peverini Palla per Rotani Morad Prova di bucata Tenderini Prova a tiro Fuori di nulla Il tiro di Tenderini Dalla sua area di rigore Perché adesso chiama Ad Asai Palla per Madu Madu Spalla la porta Prova a girarsi Madu Prova a tiro Balla di Asar Per un pelo Non riesce Ad intercettare Tutta la caccia di posizione Ragiona Rimano Palla per Peverini Peverini Per Rotani Per Matuto Adesso c'è una possibilità Di tiro Per Tenderini Che prova il tiro Fuori di nulla Il tiro di Tenderini Macharo 4 minuti 6 secondi Risultato di 4 a 3 Per il fuzzo di Lorba Palla per Renan Rotani sulla destra Peverini Prova l'imbucata E c'è il gol C'è il gol di Renan Sulla imbucata di Peverini Risultato di 4 a 4 Morad Rotani Peverini Rotani Morad sulla sinistra Che prova a puntare Renan Lenan Fuori Rimessa dal Asai Fermano imbucata Peverini Asai alla battuta Prova il tiro Decolle Palla va fuori Asai Prova il tacco Decolle Adesso Rotani Può provare il tiro Che c'è il gol Per il Milano Quando lancerò 30 secondi Risultato di 6 a 4 Ancano 8 secondi Palla per Asai Asai Se prova il tiro Di Mancino E' finita la partita Risultato di 6 a 4 Primi